Musica Catanzaro batte Regina 1 a 0, un derby al Caldiopalma, vissuto fino all'ultimo momento, a 10 minuti dalla fine, è arrivato lui. Quello che tutto il pubblico cadanzarese aspettava, Saveriano Infantino con a disposizione un solo colpo e non l'ha fallito. Ha siglato un gol battendo un giovane portiere di cui sentiremo parlare, si chiama Conflenti, annotatevi questo nome. La squadra ha disputato una splendida partita, nonostante il campo in pessime condizioni, inevitabilmente ha risentito dell'impegno ravvicinato a partita disputata tre giorni fa a Lentini, anch'essa vittoriosa. Bella partita, bella vittoria, meritata, anzi il gol è arrivato anche un po' tardi, ma l'importante era vincere. Abbiamo aspettato tanto Infantino, alla fine l'abbiamo avuto. Alla fine si è sbloccato, speriamo che sia il primo di una lunga serie. Bellissimo, sono tutti stati bravi, veramente, è una grande squadra, la nostra veramente, sono soddisfattissima. Ormai eravamo un po' stanchi, il campo pesante ci aveva un po' tagliato le gambe, però grazie a Dio siamo riusciti a sbloccarla in modo classico. La squadra ha dimostrato carattere. Sì, direi di sì, poi ha giocato su questo campo pesante, non è facile. Anche la partita che è stata disputata solamente tre giorni fa ha influito sulla condizione atletica dei calciatori. Sicuramente, sicuramente si fa sentire, i 90 minuti si fanno sentire dopo quattro giorni, è chiaro che... E adesso ci aspetta un altro impegno in casa? Un altro impegno sempre con una squadra che verrà qui a giocarsela in modo prudente, diciamo così. La più bella partita del campionato in casa, la più bella partita, sfortunate, ma finalmente siamo riusciti a sfondare quella porta. Il campo pesante ha influito sulla partita? Anche, 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 soprattutto quello, però abbiamo giocato per me, per quanto mi riguarda, è una delle più belle partite che abbiamo visto. La squadra ha dimostrato carattere e rispetto per i suoi sostenitori soprattutto, perché hanno dato l'animo. Veramente una partita da dieci e l'ora. Sì, è piaciuto l'impegno soprattutto? Soprattutto l'impegno perché sono professionisti serio, lo stesso Infantini, dopo non sono... avevo perso il tempo di infortunio, questo ragazzo ha dimostrato che è un calciatore. Di categoria superiore? Certamente di categoria superiore lo ha dimostrato. È migliore dei 22, è stato il portiere della regina. È vero, è vero, nonostante il campo pesante è un grande portiere, fai bene a sottolineare. Si doveva recuperare quella papara che ha fatto a Catania. Ma Catania ha giocato bene, però avevamo stato di essere un grande portiere. Però ha fatto lui il gol, però il Catanzaro ha fatto una grande partita, specialmente al primo tempo, chi non l'ha visto, mi dispiace che non l'hanno visto tutti i regini, ma si avrebbero... Non ti vedo tanto dispiaciuto. No, no, però dico, per vedere il vero Catanzaro, no, magari loro si hanno voluto al secondo tempo e non l'hanno visto. Sì, sì, sportivamente dispiace che a questo spettacolo non possano assistere senza nessun tipo di inibizione tutti i tifosi, di ambedue le squadre. Questo calcio come sta diventando? Le persone... Una partita stradominata e si rischiava proprio di non vincerla. Quel gol annullato regolarmente, io non lo so che sono... Forza Catanzaro! Hai capito? Come fa a non vincere una partita del genere? Anche un palo. Pali, traverso, eh sì. Guarda che veramente, guarda. Oggi è stata una liberazione. Un grande... Ha segnato pure Infantino. Ha segnato pure Infantino. Abbiamo aspettato poi di arrivare. È arrivato, meno male. Così si è sbloccato anche lui, ok? Il Catanzaro è stato nettamente superiore. La regina non ha fatto niente. È venuta qui a tirare lo 0-0, però poi Infantino l'ha messa dentro. Allora, vengo dalla Sardegna e quindi ho avuto la fortuna di assistere a una bella partita. Un Catanzaro forte, erano da anni che non vedevo un Catanzaro giocare così, molto veloce. Se riusciamo a riprenderci Infantino che si è visto che è importante perché un colpo di testa è anche un gol così da quanti anni che non lo vedevamo a Catanzaro. C'è la vera punta. Un gol davvero c'è la vera punta. E quindi un buon auspicio per il futuro che sia Rossi. Bene, grazie. Saluto i miei cari dalla Sardegna e da Olbia. Buon rientro, buon rientro e seguiteci sempre, grazie. Grande Infantino, Autere a Zecchi i Cambi, che dobbiamo dire? Finalmente abbiamo un allenatore che a Zecchi i Cambi, ma io direi grandissimo Canutè, un calciatore di categoria superiore. E lo sta dimostrando. Quindi fa ben sperare per un giorno di ritorno, per un proseguo, un giorno di ritorno alla grande. Siamo tutti contenti, ci apprestiamo a vivere un Natale sperando di cogliere altri tre punti questa domenica contro la Cavesi. La Cavesi è avvisata, l'aspettiamo. Allora hai visto una partita davvero che ti ha fatto emozionare. È una delle tue prime partite, però devo dire che il Catanzaro spero che tu lo possa vedere sempre in questa condizione. Sì, sì, spero di vederlo così, ma comunque ha lasciato un po' desiderare perché la partita fino agli ultimi minuti non è stata una partita che è stata combattuta, però senza emozioni. Però alla fine siamo riusciti a portarci questa vittoria 1-0. È buono, no? Certo. I tre punti li abbiamo portati. Certo, bene così allora. Ok, salve. Senti, vieni qua. Dai, un saluto rapido. Forza Catanzaro, sempre! Forza Giorno Rossi, sempre! Ma quest'anno i punti deboli all'inizio erano due, il portiere e il centratanti. Il portiere pare che finalmente l'abbiamo trovato. L'attaccante in effetti, se Infantino ricomincia a giocare per come conosciamo noi Infantino, sarà l'acquisto di gennaio. Direi che ci siamo trovati di fronte a un grande portiere, dobbiamo notare questo nome. Conflente ha disputato un'ottima partita e diciamo per merito suo e per colpa delle cattive condizioni del campo e dell'incontro ravvicinato che il Catanzaro ha trovato qualche difficoltà a siglare la rete. Sicuramente era una partita con molte insidie, appunto hai citato il campo, ma quello si sa perché avendo costruito un palazzo di fronte e il sole sono tre anni, credo che quella fascia non prenda il sole. E quindi è un problema proprio strutturale, quello vabbè, lasciamo perdere per l'altro discorso. Per quanto riguarda la partita, il portiere loro in effetti anche nelle altre partite aveva dimostrato, tranne qualche piccola incertezza, di essere un ottimo elemento. E in effetti sta partita non era facile, si è dimostrato. E il primo tempo tutte le occasioni che abbiamo avuto sono state non finalizzate per la mancanza di un centroattacco come alla fine Infantino si è rivelato vincente. Quindi soddisfatto, anche se purtroppo nell'infrasettiminale il primo freddo non il pubblico poteva essere più... Massimo, è un momento per stare in campo, Massimo. È peccato per gli ultrass che oggi veramente potevano fare il valore aggiunto. Contento per la prestazione? Abbastanza, è partita sofferta ma alla fine vinta, i cambi sono stati azzeccati dal mister, si vedono i frutti del gioco di Auteri. Finalmente riusciamo a vincerla anche soffrendo. In altre partite era andata male, finalmente stasera è andata bene. Noi siamo più forti della Juventus! Bravo, giusto! Forse è Cattanzieri, forse... Vieni qua, vieni qua. Allora, il pubblico è contento, la prestazione della squadra è stata garantita anche dai meccanismi di Auteri che finalmente si stanno benoliando. Sì, diciamo che la squadra sta svolgendo tutto il lavoro che Auteri vuole portare avanti e ha fatto una buona situazione tecnica. È il Cattanzieri che oggi si è visto benissimo, che ha giocato alla perfezione. Un primo tempo di altissima qualità calcistica, i tempi giusti, tutte le azioni diciamo fatte bene. Però il portiere ha fatto tre miracoli. Tre, quattro volte ci siamo noi, diciamo, non si dice mangiare il gol, ci siamo beccati il gol. Però poi alla fine il Cattanzieri è riuscito a prendere la partita che tutto sommato, minimamente, è stato proprio stretto l'1-0. Un popolo giallorosso che si sta avvicinando alla squadra. I piani, diciamo, del lavoro che sta portando Auteri sono beni e quindi non so che cosa ti devo dire. Siamo tutti soddisfatti e va bene così, forse giallorossi. Allora, il pubblico voleva il centro avanti, mi pare che l'abbia trovato. Non ho mai avuto dubbi su Saveriano Infantino e ancora non è niente. Vi posso garantire che farà, da qui alla fine del campionato, vi posso garantire che farà tanti, tanti gol. Anche se chi mi è stupito in assoluto di più è Mamadou Canuté, in assoluto, in assoluto. È la persona che ci farà fare il salto di qualità. Sicuramente, però oggi ci siamo trovati di fronte tre componenti, il campo pesante che hanno un po' inficiato le trame di gioco predisposte da Auteri, l'impegno ravvicinato dopo la disputa della partita a Lentini e anche un grande portiere. Con Flente è un nome da segnare. Assolutamente, ma anche la determinazione della regina perché ci teneva a fare risultato qui a Catanzaro, ma per fortuna nostra non ci è riuscita. Cosa ci aspetta? Ci aspetta un grande campionato e sicuramente una vittoria finale. Infantino, da attaccante di razza, si è fatto trovare pronto al momento giusto, al posto giusto. Ha dimostrato di essere un attaccante di esperienza. Quello che ci manca sottoporta, magari perché questi ragazzi sono ancora giovani, non sono cinici come un attaccante come Infantino. Della serie ha avuto un pallone e ha fatto un gol. Io a un mio amico che era vicino a me gli ho detto che questa qui è la partita di Infantino, come infatti ho avuto ragione. Comunque è stata una partita sofferta, siamo stati imprecisi, sottoporta. La regina si sapeva che sarebbe venuta qui per cercare di portare via un punto. Più che mai gli assenti hanno avuto torto, quindi invitiamo assolutamente il pubblico a partecipare con maggiore calore, numericamente in misura maggiore, al prossimo impegno che ci vedrà protagonisti contro la Cavese domenica alle 16.30. Faccio un appello a tutti i tifosi di Calanzaro, che stasera non sono stati presenti qui allo stadio, di essere presenti domenica e di sostenere questi ragazzi che hanno bisogno di un pubblico che merita un palcoscenico diverso. Io invito il Presidente Noto a gennaio di rafforzare la squadra e puntare direttamente alle Serie B, perché secondo me noi possiamo giocarcela. Non pede con le altre squadre? Sì, sì, secondo me sì. Quindi lo invito. Grazie, grazie. Grazie a tutti.